Scario. Salerno. Dopo aver girato il mondo, Miami, Venezia, Monaco e Los Angeles, la giovanissima artista, Katrin Guida Cilentana di Scario, ha esposto le sue opere nel suo paese d'origine. Esposizione che si è tenuta durante la rassegna Teatro sotto le stelle. La mostra personale di Katrin è stata suddivisa in tre sezioni, Flora, Donne e Amanti. È stato grande l'entusiasmo da parte di quanti hanno visitato la mostra. L'esposizione ha è stata un grande successo che ha inorgoglito l'artista di Scario. Katrin, nonostante abbia mostrato al mondo intero le sue opere, si è detta particolarmente emozionata per l'esposizione nella sua terra d'origine.